Eccellenza Liguria qui a Corneliano, la Genova Calcio ospita il Valdivar 5 terre, biancorossi che vedono la zona playoff ed oggi, contro l'ultima della classe, un'occasione per avvicinarla. Valdivar che invece deve invertire un trend, marcature che si aprono immediatamente, corner al terzo minuto, battuto sul primo pallo, del freon non esce e viene anticipato di testa da Ilardo che insacca per l'1-0, passano 6 minuti e arriva il raddoppio, sempre di testa stavolta sull'incornata di Petracca, che riesce a imprimere potenza e a battere il portiere, 2-0. Calcio di punizione al limite per la Genova, al 26esimo, sfera che supera la barriera tanto quanto la traversa. Azione prolungata sulla fascia dei genovesi, cross basso di Ilardo che arriva a Petracca che anticipa tutti e segna per il 3-0, padroni di casa che sembrano sicuri di sé. 41esimo, sempre sulla stessa fascia del 3-0, arriva al poker, azione simile alla precedente ma stavolta a finalizzare De Martini, che regala un intervallo sereno ai suoi. 48esimo del secondo tempo, Ilardo è fortunato nel rimpallo e si trova tu per tu col portiere, conclusione non angolatissima ma potente, abbastanza da battere del freo, 5-0. Prima azione del Valdivare al cinquantesimo con Kella che prova il tiro, Calizzano qua è bravo a bloccare, arriva però il sesto gol per i genovesi, dal corner è bravo Dotto a toccare il pallone prima di tutti e a gonfiare la rete, dimostrando che i bianco-rossi hanno ancora fame. Valdivare che non cede però all'idea della disfatta e trova il gol della bandiera, punizione capolavoro di Vanacore che trova il 7 dalla distanza. Finisce 6-1 per la Genova Calcio che ha chiuso già nel primo tempo il discorso partita e nel secondo tempo ha fatto defluire la partita fino ai tre fischi finali.